Grazie Leonardo, ben trovati a tutti. Eh sì, Papa Francesco il primo maggio del 2019, proprio ad Assisi, ha lanciato una sfida, non solo ad economisti e imprenditori di tutto il mondo. Per cambiare l'attuale economia, in cui la pandemia ci ha messo del suo, abbiamo pensato, come qualcuno ha già fatto presente, di ritornare alle origini dell'antropologia economica e ripensare il rapporto tra economia e società. Un'economia diversa, che non uccide, che non esclude e che non disumanizza. Per questo motivo abbiamo contattato il professor Oreste Bazzichi, docente di filosofia sociale ed etica economica alla Pontificia Facoltà Teologica a San Bonaventura Seraficum di Roma, e lo abbiamo in collegamento Skype. Bentrovato professor Bazzichi. Buongiorno a tutti, bentrovati anche voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Per noi è un onore, perché lei collabora a diversi periodici, ha scritto tanti saggi, libri e quindi, insomma, sa tanto sull'argomento. Vista la sua intensa attività di studioso, rivolta prevalentemente all'analisi dei rapporti tra etica ed economia, con particolare attenzione all'economia francescana, le chiediamo subito. In che modo si sono resi utili i pensatori francescani a proposito di economia? I pensatori francescani sono partiti in pratica dal cantico delle creature, dove c'è la libertà creativa. Cioè questa libertà creativa si rivolge soprattutto al volto originario dell'essere, non solo come espressione, diciamo, del singolo, ma espressione del mondo. E questa libertà creativa, il Dio l'ha passata all'uomo. Questo principio teologico, diciamo, del francescanesimo, che ha il primato della libertà, e la libertà è congiunta alla volontà, perché ogni essere deve dire sì al bene e quindi dire no al male, da qui è partito il pensiero francescano proprio dalla creatività dell'essere e quindi di tutto il mondo che ci coinvolge. Da questo pensiero è venuto, è sceso proprio nella parte della società. E come è sceso? È sceso perché mentre i Benedettini avevano nel VI secolo, avevano fatto i monasteri, e nei monasteri era come una comunità anche non solo di preghiera, ma anche di lavoro, i francescani hanno voluto, notando, essendo insieme al popolo, e i francescani, Francesco l'ha voluto, i suoi discepoli, proprio in mezzo alla gente, si sono accorti che di tutte le categorie che c'erano allora nel XIII secolo, quella che soffriva era quella del popolo. Da lì nasce la motivazione di dire come poter far crescere il benessere della società. Loro hanno avuto la capacità, insomma, il tocco di genio, di mettere insieme povertà e ricchezza, fondando tutto sui principi di carità, solidarietà e sussidiarietà. Sono stati bravi, praticamente, a mettere insieme teorie e pratica per la loro crescita civile, sociale, economica e religiosa. Noi ci chiediamo, a distanza di più di 800 anni da San Francesco, con l'evoluzione in tutti i campi, come mai non si riesce a far convivere ancora tutti e tre questi principi, viste le difficoltà che stiamo vivendo? Le difficoltà sono date soprattutto dal punto di vista proprio culturale. Cioè, queste idee francescane che sono venute adesso alla ribalta hanno delle motivazioni, anzitutto, filosofico e teologiche. Cioè, siamo passati al post-industriale, post-moderno, post-ideologico, eccetera. Quindi, questa crisi è, diciamo, di natura entropica, cioè è all'interno proprio della crisi, che è di direzione. Non riusciamo a vedere la direzione. Ecco perché nelle ultime encicliche, diciamo, passiamo proprio dall'enciclica già di Benedetto XVI, XIV, Deus Caritas Est, dove da questa crisi, dice, la risposta qual è? È quella del buon samaritano, già lo dice in questa enciclica, che dopo verrà ripresa da Fratelli Tutti nel secondo capitolo da Papa Francesco, cioè di vedere, è un cuore che vede. Cioè, se non si riesce a vedere l'altro, ecco, quindi il francescanismo, questo fatto di relazione, di alterità, se non c'è l'altro, non ci sei neanche tu, tu ci sei in quanto sei in una società, in quanto c'è l'altro, cioè se non si percepisce più questi concetti dell'altro, di vedere l'altro che soffre, e se, dicono i francescani, nella società, nella comunità, c'è uno soltanto che non è felice, che soffre, soffre tutta la società. Ecco, questa mancanza di ritornare ai principi iniziali dell'essere, e la libertà, appunto, è l'originario, è il motivo originario dell'essere, l'espressione proprio dell'essere, creato. E quindi come creato è dono. È vero, e ritorniamo sempre anche alla laudatosi di Papa Francesco, in cui dice che il consumismo di ogni cosa sta diventando, ai nostri occhi, qualcosa di ormai inevitabile, qualcosa che appartiene al mondo e non si possa più cambiare. E tutto ciò è agghiacciante. Professore, lei ritiene possibile modificare questo comportamento, spesso, oggi, compulsivo? Ci circondiamo anche di superfluo. Potrebbe essere valutato come una valvola di sfogo? Sì, il primo problema, appunto, che si era posto proprio San Buonaventura, che lo possiamo dire il secondo fondatore dell'ordine, proprio partì dal principio delle cose necessarie e delle cose superflue. C'è proprio un trattato dove dice che le cose superflue sono un danno, mentre le cose necessarie che le devono avere tutti le dobbiamo fare. Il proprio dì dopo riprende il concetto San Bernardino, due secoli dopo, sempre suo confratello, che dice, per esempio, non fate l'elemosina a coloro che sanno semplicemente la necessità, ma che possono lavorare, che quindi devono guadagnarsi da mangiare e devono guadagnarsi da vivere, perché altrimenti se gli fate l'elemosina diventano come frate mosca che non voleva lavorare. Quindi questo principio della sovrietà. Naturalmente la sovrietà deve essere il principio che poi è entrato sia nell'economia ma soprattutto nella dottina sociale della Chiesa con la sostenibilità e con l'economia o ecologia integrale. Ecco, che comprende tutto. Comprende l'economia, comprende l'ambiente, comprende la persona, comprende la società, comprende la solidarietà. Siamo tutti in poi i principi. La solidarietà, perché se non ci fosse la solidarietà non ci sarebbe neanche la solidarietà. Dovremmo ritornare tutti a Francesco, professore. Adesso le faccio un'ultima domanda poi la saluto ovviamente ringraziandola per la sua disponibilità e le sue conoscenze. Ci ha fatto molto piacere averla qui. Una domanda che è un po' una provocazione. Se le augurassimo di entrare in politica magari come ministro dell'economia come la prenderebbe? Ma avrei molte perplessità perché portare questi concetti nell'ordine economico, cioè pensare oggi, oggi certi concetti cominciano ad entrare in economia come per esempio quello di gratuità. Se noi consideriamo che nel nostro PIL se consideriamo il prodotto interno lordo anche soltanto italiano si calcola che all'incirca il 5% è economia del dono. Pensiamo alle famiglie che sostituiscono lo Stato in tante funzioni e che non hanno un denaro. Pensiamo alla famiglia come dono e come integratore diciamo economico. Pensiamo al fatto delle organizzazioni non profit che diciamo donano una parte di loro stessi. ecco che quindi un 5% all'incirca di prodotto interno è stato dono di gratuità e adesso c'è più bisogno invece diciamo non invece in aggiunta della fraternità più fraternità nell'economia. Un bel traguardo da raggiungere noi ce lo auguriamo tutti ovviamente ci auguriamo anche di essere guidati in questo di essere accompagnati da persone competenti anche come lei. Professore la ringrazio tanto a nome di Padre Più TV Ringrazio io voi che mi avete dato questa opportunità di parlare alla televisione. Grazie a lei allora buon proseguimento magari ci risentiamo prossimamente. io ti restituisco la parola Leo a te continua tu.